Ciao ragazzi, questa è una cosa seria e ciao a tutti gli amici di Foggia, ci rivolgiamo. Certo, c'è questa campagna contro la sedentarietà e l'obesità, quindi per non farvi, diciamo, vesci guni, come si dice a Foggia, diciamo grandi. Ci sono gli amici di Palextra che offrono dei giorni per usufruire, appunto, di tutte le tue, gratuitamente. Allora, gratuitamente, voi andate là e a Palextra. Da quando? Dal 13 al 31 marzo. Dal 13 marzo. Al 31 marzo andate lì a Palextra gratis, senza pagare. A nome nostra andate. E' una campagna per la sedentarietà e l'obesità. Che servirebbe pure a noi, eh. E vi andate a muovere là. Pur che non vi volete muovere, andatevi a fare solo la doccia. C'è Palextra che non ti paga. No, questa è una cosa seria, ragazzi. Mi raccomando, sosteniamo questa iniziativa. Let's move for a better world. Mamma che inglese, ragazzi. Mi raccomando.